Ciao a tutti, vediamo oggi come si prepara lo zucchero cotto a 121 gradi, una base necessaria per preparare la meringa all'italiana, la pata bomb e altre preparazioni di pasticceria. Utilizzerò 100 g d'acqua e 400 g di zucchero semolato. Iniziamo la preparazione versando in un polsonetto in una casseruola l'acqua, uniamo lo zucchero e cuociamo a fiamma moderata fino a raggiungere la temperatura di 121 gradi. Durante questa fase prima che lo sciroppo raggiunga l'ebollizione è consigliabile schiumare in modo da eliminare eventuali impurità. Inoltre per evitare che lo zucchero che schizza sulle pareti della casseruola caramellizza e compromette la preparazione possiamo di tanto in tanto ripulire le pareti della casseruola con un pennello intinto in poca acqua calda. Per verificare la giusta temperatura sarà necessario utilizzare un termometro da cucina. Un saluto da Sonia e al prossimo video!